Buongiorno da Edo, il fresco di ZoneJS. È il 3 gennaio, quindi buon anno, buon 2024. E come vedete siamo ripartiti con la stessa frizzantezza di sempre, pronti per un altro po' di puntate su tech news, sul coding, sul nostro mercato IT che ci piace tanto. E che mercato è stato nel 2023? Ci sono stati tanti trend carini, interessanti, che abbiamo seguito nell'open source, nel cloud, nell'intelligenza artificiale, che sarebbe meglio chiamare large language model naturalmente, però insomma, gli abbiamo affibbiato questo nome commerciale di AI e mo' ce l'otteniamo. Quindi questi sono stati un po' i trend. Uno dei trend però sicuramente più impattanti e interessanti da seguire è quello del fediverso, cioè della mossa di masse di persone verso il fediverso e del continuo sviluppo che il fediverso stesso, meglio, e i protocolli attorno al fediverso, in particolare Activity Pub, hanno avuto la notevole spinta che hanno avuto nel 2023. Mastodon, che è sicuramente il prodotto di punta, si è migliorato molto, si è espanso molto, naturalmente ha accolto tanti nuovi utenti, ha accolto proprio nell'ultimo mese anche un po' di utenti da Threads, che è la piattaforma che Meta ha deciso di lanciare e poi di federare, anche con qualche polemica l'abbiamo visto, e al di là di tutte le critiche che si possono giustamente anche fare a Mastodon, alla sua magari interfaccia non proprio user-friendly, al suo processo di onboarding, insomma, tutte cose che sono state migliorate anche notevolmente nell'ultimo anno e che sicuramente saranno migliorate ancora. Una delle cose che trovo più interessanti e confortanti è vedere quante discussioni ci sono intorno allo sviluppo del protocollo, dei client, dei server, insomma, della tecnologia che sta attorno al prodotto stesso, proprio sulle istanze di Mastodon. Cioè, non trovo un altro social network in cui gli utenti al suo interno parlino di sviluppi tecnologici, non solo sociali, ma proprio tecnologici del social network stesso. Questo è possibile naturalmente soltanto grazie al potere dell'open source, ma anche al fatto che si sta vivendo, come l'hanno definito alcuni blog, una sorta di rinascimento del social network, che ricorda un po' la blogosfera dei primi anni 2000, cioè la decentralizzazione e la presa di coscienza degli utenti che i contenuti, il vero potere di un network, cioè i contenuti, stanno nelle loro mani e che quindi sono gli utenti stessi a dover portare avanti il benessere del network, sia dal punto di vista dei contenuti che poi anche da quello tecnologico e software. Quindi io a livello social vado tranquillamente all-in nel 2024 su Mastodon, penso che sia il social su cui stare. Non mi interessa molto Trez al momento, di certo non mi interessa più Twitter, tra l'altro dopo che quello che molti cercano di venderci come il migliore imprenditore della terra è riuscito a fargli perdere il 71% del suo valore da quando l'ha preso, cioè da poco più di un anno. Non male, pensate cosa dovreste fare voi per prendere un'attività ben avviata e fargli perdere il 71%, dovreste praticamente mandare a fanculo i suoi clienti. E quindi ci vediamo su Mastodon, edo at continuousdelivery.social è il mio handle, se vi interessa venirmi a seguire, venirmi a contattare, lo uso abbastanza frequentemente e con assolutamente soddisfazione. Tra l'altro se volete entrare o siete entrati da poco, non sapete bene come orientarvi, se andate a vedere sul mio account la lista dei profili che io seguo, sono per lo più profili legati al mondo dell'IT, sviluppatori o tecnici, insomma, o giornalisti che parlano di IT, quindi se volete trovare un po' un gruppo di account che potrebbero interessare anche a voi per iniziare a seguirli, insomma, l'avventura su Mastodon potete vedere un po' chi sto seguendo io, questo potrebbe darvi una mano. E ora partiamo con le news della prima puntatona dell'anno. Allora, ho deciso di aprire il 2024 parlando di Mozilla, perché naturalmente Mozilla è una realtà che ci sta particolarmente a cuore, no? Una delle fondazioni storiche dell'open source, una delle più antiche, che ha quasi 25 anni e ne parlo perché Mozilla, come ogni anno, ha fatto uscire il suo report finanziario, naturalmente che riguarda anche un po' i suoi obiettivi e ti dà un po' un'idea di come sta andando. Il report lo trovate su stateoff.mozilla.org. Ci sono naturalmente un po' di lettere aperte, diciamo, in cui si rivolgono ai propri utenti, ai propri finanziatori, ai propri stakeholder, le varie figure apicali di Mozilla, quindi la CEO Michel Baker e poi CFO, presidente, esecutivo, eccetera, eccetera. Quindi se volete leggervi un po' di messaggi dall'interno, ecco, potete andare a vederli qua. Quello che a noi ci interessa è vedere un po' come sta andando e prendo un articolo di The Register che va a fare un po' un'analisi, appunto, di questo stateoff, di questo report e vediamo un po' come viene fuori, perché intorno a questo si sono scatenate naturalmente un pochino di discussioni, soprattutto un pochino di polemiche. Perché? Perché emerge dai dati finanziari che la CEO di Mozilla, Michel Baker, ha visto un aumento considerevole del proprio stipendio nell'anno 2022. Infatti, come riporta, appunto, The Register, il suo compensation è passato da 5.591.000 dollari nel 2021 a 6.903.000 dollari nel 2022. Quindi un aumento considerevole che la porta a quasi 7 milioni di dollari di revenue. E la comunità open source attorno a Mozilla si chiede come è possibile questo aumento considerevole di stipendio quando in realtà il market share del principale prodotto di Mozilla, che è Firefox, sta scendendo considerevolmente, ha perso ulteriore terreno nell'ultimo anno, sia nei confronti di Chrome che nei confronti di Microsoft, e poi in generale le revenue totali di Mozilla stanno scendendo. Ma tra l'altro Baker, nella lettera appunto che vi citavo prima, ha continuato a dire che quello che sta facendo Mozilla non è ancora abbastanza, il ritmo non è ancora sufficientemente alto, l'impatto non è ancora abbastanza. Nei report si cita anche la AI, l'intelligenza artificiale, l'organizzazione dice che ha 15 engineer che stanno lavorando sui large language model open source, in particolare concentrandosi nel healthcare, quindi insomma nella sanità. Inoltre il chief product officer Steve Teixeira parla di Mozilla.social, che in pratica è un'istanza mastodon con un client web particolare, con alcune customizzazioni, è ancora in fase beta, e tra l'altro lo stesso Teixeira dice che difficilmente uscirà da questa fase beta chiusa nel 2024. Potete provare a iscrivervi a Mozilla.social, ma l'iscrizione segue una waiting list, oppure dovete avere un invito. E appunto c'è questo tentativo di esplorare nuovi modi per integrare l'advertising, ma mantenendo il focus sulla privacy e sulla scelta degli utenti. Ora, come questo verrà fatto non si dice, però rimane, come da Mozilla manifesto, ecco l'importanza dell'utente e la centralità della sua privacy e della sua sicurezza. Inoltre c'è naturalmente il riconoscimento di subscription service importanti per Mozilla come VPN e relay. Baker ribadisce comunque che c'è la necessità di andare più veloci, di fare prototyping, di fare lanci di nuovi prodotti, di provarli per avere feedback dal mercato, che è un po' una mentalità da startup, no? E questo naturalmente richiederà di avere dei dati. Da dove Mozilla prenderà questi dati mantenendo la privacy dei suoi utenti, insomma, non è ancora abbastanza chiaro. Quindi vedete che ci sono un po' di problemi, no? Da un lato c'è la decrescente importanza di Mozilla come azienda e dei suoi prodotti, perché Firefox sta perdendo mercato, dall'altro però c'è un continuo aumento del salario del suo CEO. E per analizzare un po' questi dati, al di là delle arrabbiature che potrebbero venire fuori, ci viene in aiuto un post che ho trovato molto interessante sul blog di Lunduk, che non si dirà così, Lunduk, non lo so, si chiama Brian Lunduk, è un blogger che parla di tecnologia, è un analista, che parla anche di open source, è interessante il suo blog. Ma in uno degli ultimi post, appunto, parla di questo annual report. Fa un riassuntino, dice che sostanzialmente ci sono tre grossi punti, no? L'enorme crescita, appunto, dello stipendio del CEO di diversi milioni di dollari, le revenue totali di Mozilla che scendono, e il market share di Firefox che sta continuando a perdere terreno. Quindi questo post che trovate su lunduk.locals.com va a vedere le tabelle con tutte le revenue riga per riga per vedere cosa sta succedendo e poter fare previsioni su quello che succederà anche in futuro. E si parte naturalmente dall'incremento di 1,3 milioni di dollari del salario della CEO, si guardano poi le revenue di Mozilla in totale, che sono scese tra il 2021 e il 2022. Non di tanto, perché si è passati dai 600 milioni di dollari nel 2021 a 593 milioni di dollari nel 2022, quindi 7 milioni di dollari di decremento, che non è tanto rispetto al totale, ma comunque è un decremento. E inoltre, naturalmente, il market share di Firefox, che secondo proprio questi dati, è passato da circa il 4% a circa il 3%, quindi un decremento anche qua abbastanza consistente. Ebbene, c'è qualcosa quindi che non torna, no? Un aumento del salario e dati che parrebbero non giustificarlo. Bene, ma ci sono due obiettivi primari che Mozilla ha, su cui invece sta andando molto bene, che magari non emergono subito nella discussione che si fa intorno a questo report. Il primo è il continuo incremento degli asset finanziari di Mozilla, cioè dei suoi possedimenti, di quello che Mozilla ha. E il secondo è uno spostamento del focus di Mozilla via da Firefox, cioè una diversificazione che tolga Firefox dall'obiettivo primario e verticale di Mozilla. Quindi, se si vanno a vedere appunto le tabelle degli asset, si vede che nel 2022 il totale degli asset posseduti da Mozilla equivale a 1,3 miliardi di dollari, che è un incremento notevole rispetto anche all'anno precedente. E tra l'altro di questi, più di mezzo miliardo di dollari sono in cash, quindi hanno un sacco di denaro liquido. Inoltre, se si guarda a quello che il blogger chiama The Firefoxification di Mozilla, si vede che c'è un decremento nella riga che riguarda le royalties. Quindi c'è un decremento di 17 milioni di dollari. E le royalties sono in larga parte costituite da quello che Google paga per essere il motore di ricerca predefinito di Firefox. Quindi, considerando la perdita di market share di Firefox, è comprensibile anche questo scarto. Ma c'è una seconda riga, su cui il blogger ci fa guardare con attenzione, che si chiama Subscription e Advertising Revenue. E queste Subscription sono fondamentalmente i prodotti che Mozilla vende con sottoscrizioni mensili ai propri utenti. Quindi, per esempio, Pocket Premium. Vi ricordate Pocket, quella startup che Mozilla aveva acquisito anni fa, che ti consente di salvare e organizzare link su web e con un'app mobile. Bene, c'è un Pocket Premium che ti dà qualche feature in più. Questa è una Subscription a pagamento. Poi c'è Mozilla VPN. Anche questa è una Subscription che si può fare a pagamento con anche alcuni advertising pubblicitari. Aggiungo io, c'è anche Firefox Relay, che è un ulteriore prodotto che ti permette di schermare le email e il numero di telefono. Ecco, anche questo è un prodotto a pagamento. Quindi queste revenue sono passate da 56 milioni di dollari a 75 milioni di dollari. Quindi è un notevole incremento di questa riga. E probabilmente questa è esattamente la strategia che Mozilla sta seguendo. Cioè, spostarsi dal solo Firefox come Focus per concentrare i propri investimenti su anche altre voci. Diversificare, ecco. E queste parrebbero essere esattamente i piani di Mozilla. Tra l'altro, quando Mozilla, proprio pochi mesi fa, aveva parlato dei piani per il suo futuro, non aveva menzionato Firefox. Si era concentrato in particolare sull'intelligenza artificiale, quindi sui Large Language Models. Era lì che si concentravano in particolare i progetti della Mozilla Foundation. Quindi, spostarsi da Firefox e concentrarsi di più sui sistemi TAI e sui sistemi a subscription mensile parrebbe essere l'obiettivo primario di Mozilla. Questo obiettivo sta dando i suoi frutti, quindi le revenue in quelle voci stanno crescendo. Se questo è l'obiettivo, il CEO di Mozilla lo sta perseguendo anche molto bene. Quindi, conclude questo blog post. Cosa possiamo aspettarci dal futuro di Mozilla? Possiamo aspettarci un decremento degli investimenti, delle attenzioni su Firefox, quindi anche degli sviluppi su Firefox. Quindi, probabilmente, se siete fan di Firefox, probabilmente vedrete, continuerete a vedere un po' una minore attenzione di Mozilla a questo prodotto. E invece, un incremento del focus sui servizi di AI e su altri subscription non direttamente legati ai browser. Allora, rimango a parlare di open source e rimango a parlare di una realtà storica del panorama open source, però ci spostiamo su Linux. Parlo di Gentoo. Mi fa sempre molto piacere parlare di Gentoo, perché Gentoo, dovete sapere, che è stata la mia prima distribuzione Linux. Quando sono entrato in università, la prima cosa che ho installato sul mio laptop è stato appunto Gentoo, con un ottimo Linux user group che mi ha aiutato a capire come andare avanti. Insomma, Gentoo è stato il mio primo contatto vero con il mondo Linux, quindi lo ricordo sempre con piacere. Ebbene, la news che Itzfoss definisce una big news è che ora è possibile installare dei pacchetti binari su Gentoo. Ora, per capire l'importanza, ecco, la grandezza di questa news, è necessario capire cos'è Gentoo, perché Gentoo è una distribuzione che si focalizza sulla compilazione dai sorgenti di tutti i pacchetti. Cioè, il suo packet manager, che si chiama Portage, e che è possibile invocare da command line con il comando Emerge, è rimasto, come me lo ricordavo io, 20 anni fa, più o meno, ebbene, si focalizza sul download dei codici sorgenti, poi la compilazione per ottenere dei binari che siano ottimizzati per la tua architettura. Insomma, questa è la filosofia di Gentoo, su questo si basa. Bene, la big news è che adesso Gentoo offre anche pacchetti binari da poter installare. Però aspettate un attimo, perché in realtà, come anche sul suo newsroom, Gentoo ci tiene a sottolineare, la disponibilità di pacchetti binari c'è da un sacco di tempo. In realtà, anch'io me lo ricordavo, quasi dall'inizio era possibile installare pacchetti precompilati. Però qual è la vera novità di adesso? Ma qual è la novità di oggi, quindi? Che adesso Gentoo offre direttamente pacchetti binari dai propri repository, quindi offre dei pacchetti precompilati e ottimizzati per varie architetture. In realtà, per la maggior parte delle architetture, questo è limitato a pacchetti core, ecco, del sistema e agli update settimanali. Però per architetture come AMD64 e ARM64, ci sono anche pacchetti molto più corposi, come KDE, LibreOffice, ecco. E questo dà una grossa mano a chi ha dell'hardware un pochino meno performante, ecco, la cui compilazione di pacchetti potrebbe risultare, insomma, in tempi di attesa piuttosto lunghi. Quindi un'offerta di binari precompilati e mantenuti dal team di Gertrude stesso sui propri repository, integrati in Portage, quindi nei sistemi di compilazione, di installazione pacchetti di Gentoo. Ed è un po' qui, insomma, la grande novità. Naturalmente l'installazione da sorgente rimane la via primaria per switchare a una distribuzione di questo tipo, cioè non ci andate per installare binari, non avrebbe molto senso. Però l'affiancamento di binari alla classica installazione da sorgenti è una buona mano a chi magari per alcuni prodotti di quelli più cicciosi e più grossi non ha voglia di stare ad aspettare tutto il tempo che serve per compilarli e magari le due cose possono andare in parallelo. Ecco, comunque, una grande novità, una freschezza e un rinnovamento di fine anno anche in questa distribuzione così vecchia, quindi siamo contenti di vedere che comunque Gentoo continua a esistere e a rinnovarsi. In ultimo vi do un aggiornamento su una delle ultime news che avevo trattato appunto nel 2023, cioè il ban alla vendita di Apple Watch in seguito a una disputa con Massimo sui brevetti, sui sensori di controllo dell'ossigeno del sangue. Quindi, insomma, riassumo brevemente, Apple è stata accusata di aver violato i brevetti della società Massimo, appunto, che sviluppa dispositivi medici, brevetti che riguardano la tecnologia di monitoraggio del sangue che è usata nell'Apple Watch Ultra 2 e nel Serie 9. Quindi Apple ha dovuto interrompere le vendite e le importazioni di due modelli di Apple Watch negli Stati Uniti, questo ban riguarda solamente gli Stati Uniti, però ha fatto appello contro questa decisione e ha chiesto una sospensione del divieto fino a quando la Corte d'Appello non emetterà, insomma, un giudizio definitivo. Ha proposto anche delle modifiche software per girare attorno, insomma, a questo divieto. E il giorno dopo che il divieto di vendita è entrato in vigore, che era il 26 dicembre, ecco, la Corte d'Appello lo ha temporaneamente bloccato, interrotto. E quindi cosa significa? Che Apple ha ricominciato a vendere i suoi ultimi modelli di Apple Watch negli Stati Uniti dal suo sito web e naturalmente nei retail e la Corte d'Appello ha ordinato una pausa temporanea di questo divieto di vendita, quindi permettendo appunto a Apple di riprendere le vendite. E l'ufficio doganale degli Stati Uniti dovrà decidere entro il 12 gennaio se le modifiche che ha proposto Apple sono sufficienti a evitare il conflitto con questo brevetto. Quindi trovate su The Verge una copertura piuttosto ampia di questa vicenda, se volete, degli aggiornamenti. Un articolo su cui invece mi soffermo un pochino di più è appunto quello che riguarda Massimo Technology, cioè sul perché Massimo ha fatto questa accusa nei conflitti di Apple pensando di avere tutte le carte in regola per vincerla, cosa che pensa ancora. E qui vi leggo alcuni dettagli interessanti. Nel 2018 Massimo aveva accusato True Wearables, che è un'altra compagnia, appunto su violazione di suoi brevetti e la Corte in quel caso aveva dato ragione a Massimo, quindi emettendo una ingiunzione di cessazione delle vendite di quei device a partire del dicembre 2022. E cosa lega True Wearables a Apple e Massimo? Che il fondatore di True Wearables che si chiama Marcello Lamego aveva lavorato sia in Massimo sia in Apple dove aveva praticamente lavorato alle stesse tecnologie. E Lamego gioca proprio un ruolo cruciale in questa vicenda perché Massimo ritiene che le tecnologie che Apple ha sviluppato per i suoi watch non sarebbero state possibili senza Lamego stesso. Infatti mentre lavorava in Massimo Lamego aveva avuto accesso a informazioni tecniche altamente confidenziali e aveva ricevuto addestramento training insomma dai scienziati e ingegneri delle tecnologie a più alto livello in Massimo. Dopo dieci anni di lavoro in questa compagnia Lamego aveva scritto a Apple esprimendo il suo interesse nell'andare a lavorare per loro. Infatti aveva scritto una mail al CEO di Apple Tim Cook nel 2013 offrendosi come lavoratore come impiegato per portare la sua conoscenza in Apple parlando di una nuova onda nelle tecnologie che avrebbero reso Apple la numero uno nel panorama appunto dei dispositivi medici del fitness e della wellness industry e poche ore dopo questa mail un recruiter di Apple si è palesato e ha contattato appunto Lamego. Lamego è entrato in Apple nel 2014 ed è citato come inventore di numerosi brevetti di Apple appunto su questo tipo su questa gamma di device brevetti che sono strettamente legati al suo lavoro in massimo questo è il cuore proprio dell'accusa ma qui c'è una svolta importante perché Lamego lasciò Apple pochi mesi dopo essere entrato perché fondamentalmente degli screzi con i manager richiedeva dei budget multimilionari e richiedeva la capacità di poter assumere chi gli pareva sostanzialmente senza passare appunto dal management a quel punto Lamego se ne andò e fondò proprio True Wearables la compagnia che poi Massimo ha denunciato e con cui ha vinto appunto la causa nel 2022 però Apple la vede diversamente su questa vicenda perché dice che né Lamego né altri impiegati di Massimo che nel frattempo Lamego aveva assunto o aiutato a far assumere ecco nessuno di questi è coinvolto nello sviluppo dei prodotti e delle feature che Massimo invece cita nella sua causa e dice che la mail di Lamego a Tim Cook è arrivata anni prima che lo sviluppo degli Apple Watch che includono questi sensori iniziasse effettivamente quindi facendo capire che secondo lei questi due eventi non sono correlati infatti Apple ha rilasciato il primo watch l'anno dopo che Lamego ha lasciato la compagnia e non ha aggiunto un sensore dell'ossigeno nei suoi watch fino al 2020 questo naturalmente non cambia il fatto che numerosi impiegati di Massimo hanno lavorato in Apple anche dopo che Lamego se n'è andato questo infatti è quello che sostiene Massimo tra l'altro uno di questi impiegati è un ex executive di Massimo che si chiama Michael O'Reilly che ha iniziato a lavorare in Apple nel 2013 e attualmente lavora nel settore Health Special Project appunto della compagnia e Massimo dice che O'Reilly ha avuto accesso a informazioni estremamente sensibili e infatti conclude il CEO di Massimo Joe Chiani questa non è una violazione accidentale ma è proprio una violazione della proprietà intellettuale deliberata e voluta ho solo in chiusura quindi vi suggerisco un paio di letture che ho trovato interessanti questa è un'abitudine che proverò a mantenere anche quest'anno comunque il primo articolo che vi consiglio lo trovate su The New Stack si intitola What is EBPF The Ultimate Guide ed è quello che dice il titolo proprio un'introduzione una guida proprio a EBPF che è l'extended Barclay Packet Filter non vi sto a spiegare io che cos'è però l'ho trovata una lettura insomma interessante vi dico che se non lo conoscete insomma che vi interessa se soprattutto se lavorate in ambito cloud ecco dovreste iniziare ad avere familiarità con questa tecnologia con questa terminologia perché insomma è qualcosa che quest'anno potrebbe avere notevoli sviluppi e l'ultimo invece suggerimento ecco che vi do è su The Public Domain Review quindi si chiama il sito publicdomainreview.org trovate un articolo che si intitola What will enter the public domain in 2024 che come dice appunto il titolo vi dà un po' un elenco di tutto quello che entrerà nel public domain quindi nel dominio pubblico quest'anno e tra l'altro lo fa con questo formato carino cioè fa una sorta di calendario dell'avvento di gennaio per mettendovi giorno per giorno le opere che in quel giorno entrano nel dominio pubblico adesso se non sapete cos'è il dominio pubblico in pratica scadono i diritti ecco su una certa opera e quindi chi li possedeva non può più venirvi a braccare se la utilizzate senza il suo permesso ecco la butto lì la butto lì così quindi le opere di dominio pubblico possono essere usate appunto liberamente anche per fini commerciali senza che nessuno vi dica niente quindi se questo calendario dell'avvento vedete che se voi aprite le varie caselline vedete appunto chi c'è dietro vi dà il suo nome un po' di storia per esempio scoprite che il primo gennaio è diventato di dominio pubblico la versione di Topolino in Steamboat Willie che è il primo cortometraggio animato in cui Topolino era presente ecco questo personaggio questa versione di Topolino ora è di dominio pubblico perché è importante dire questa versione perché immaginate quanto è stupido il copyright le versioni successive di Topolino sono ancora di proprietà di Disney perché Disney ci ha fatto dei cambiamenti quindi il personaggio di Topolino che è venuto fuori dopo è diverso dal personaggio di Topolino che trovate in Steamboat Willie quindi voi potete utilizzare la figura di Topolino ma soltanto nella versione per quanto uno possa riuscire a definire una versione di un personaggio immaginario ecco la versione che c'è in Steamboat Willie e questa sta già succedendo perché sono stati annunciati film horror che avranno come protagonista Mickey Mouse in versione Steamboat Willie e dei videogiochi anche con protagonista questo stesso personaggio e nessuno dovrà più pagare niente alla Disney che meraviglia basta chiudo qui di questa prima puntata del 2024 spero che sia venuta insomma abbastanza interessante comprensibile non troppo verbosa anche se credo che dovrò tagliare un pochino l'ho fatta un po' più lunga di quello che mi aspettavo mi aspetta un po' di montaggio e insomma grazie per avermi seguito fin qui ci ritroveremo nelle prossime puntate quindi continuate a seguirmi vi ricordo soprattutto su mastodon edo at continuousderivery punto social quindi ci vediamo lì oppure su LinkedIn o dove vi pare ciao ciao grazie a tutti